L'attuale amministrazione, a mio avviso, sta praticamente portando a termine, poi questo è da giudicare quando andranno a valutare i tecnici regionali, perché sono tutti PSR, sta portando a termine quei lavori che praticamente le amministrazioni literali avevano messi in campo. Questo accade un po' in tutte le amministrazioni comunali. E' chiaro che chi si insedia ha anche il compito di portare a termine. Però deve anche mettere in cantiere altre progettualità. Adesso, da quello che noi sappiamo, hanno messo in cantiere, perché il sindaco lo diceva in Consiglio Comunale, un progetto per le aree degradate. Però se tu vai a scorrere praticamente gli atti dell'Istat, vai a vedere che Rofrano non è nelle aree degradate. Quindi penso che sia una programmazione quantomeno non rispondente. Perché il Ministero, anche se il progetto fosse meritevole di finanziamento, non lo sarà perché le aree degradate, Rofrano non rientrano nelle aree degradate. C'è da dire ancora che ci sono altri finanziamenti in bilico, cioè oltre alle case popolari, che sono state perse per non fare una delibera di pubblica utilità, cioè sulla indelocalizzabilità dell'area. E quindi abbiamo detto no a 16 appartamenti. Quindi qualche consigliere ha detto che ne dobbiamo fare le case, perché sono tante case sfitte. E ti posso dire che ci sono più di 20 giovani coppie, e coppie già sposate, che stanno in fitto, che aspettavano questa cosa. E' la cosa più bella, che dopo, naturalmente, il Consiglio Comunale per la stessa area ha fatto una delibera di pubblica utilità per un privato, che sicuramente è fatto bene, ma era necessario fare anche altro. Ci sono finanziamenti importanti per quanto riguarda l'energia elettrica. Tu sai, l'altro giorno siamo stati sei ore senza corrente, tutto il Paese, perché un progetto che era già partito da noi, è fatto a metà, non si sa che fine ha fatto, cioè la linea di emergenza con il Vallo di Viano, quindi che doveva servire nel progetto, diciamo nella programmazione dell'Enec, mi spiego meglio, a consentire i lavori alla rete, quindi dando una rete sostitutiva. E questo grazie all'Onorevole Iannuzzi, che praticamente si battette per Dufrano per far inserire questa programmazione. Parliamo di un finanziamento, la linea MT20, di circa 2 milioni di euro. Una serie dunque di finanziamenti. Una serie di finanziamenti che adesso c'è un punto interrogativo, anche sull'efficientamento energetico, sulla Casa Popolare, sull'asilo nido e sulla costruzione dell'isola ecologica. Quindi praticamente, veramente è un wins dei primati, della cattiva amministrazione. Questa è la realtà. Poi aggiungere alla trasparenza, perché non ti dico poi per quanto riguarda l'accesso, e i consigli comunali. Penso che sia la sesta, settima volta che non convoca il consiglio comunale nei termini, perché la minoranza è un diritto, è una legge, è stato già diffidato dalla prefettura, praticamente più volte, che il consiglio comunale, chiesto da un guindo dei consiglieri comunali, deve tenersi nei venti giorni. Deve tenersi. Ma noi questa soddisfazione in un anno e mezzo non l'abbiamo avuta. Questo per dirti che modus operante ha il sindaco Camarano. Torneremo tra qualche istante a Ruffrano. Intanto, operai rifiuti in assemblea permanente, l'altro dramma degli operai del Consorzio Salerno 4, da ieri in assemblea permanente. Nuova protesta, dunque, già da un anno, anzi da più di un anno, quasi due anni, sono senza stipendio. Però il dramma più grande è che entro il 31 maggio, 16 di loro potrebbero essere licenziati. Si cerca quindi di collocarli in altre realtà. Ieri c'è stato un incontro in provincia. Il commissario, insieme all'onorevole Simone Valiante, al consigliere provinciale Stanziola, hanno incontrato il consigliere Volpe, proprio per chiedere e sollecitare l'intervento della provincia, anche in riferimento alla vicenda Ieli. Anche Ruffrano, insomma, fa parte del Corisa 4 e dell'Aiele, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ruffrano fa parte del Corisa 4 e dell'Aiele. Io naturalmente sono solidale con gli operai, perché il posto di lavoro è un diritto sacrosanto il lavoro, e invito gli amministratori attuali a prodigarsi e fare tutto quello che è possibile, umanamente consentito, per salvare il posto di lavoro a questi operai, e portargli la serenità, perché tu sai che quando uno non lavora non è sereno, e quindi ha tutto un dramma sociale. È un dramma sociale. Quindi l'invito naturalmente a far sì che si risolve il problema, anche perché so che anche su questo la Regione sta legiferando. Sì, c'è una legge in attesa. Il tutto è fermo proprio in attesa della legge regionale. Il vicepresidente Bonavitato. Ma nel frattempo però mi pare che funziona la legge 26, quindi che dava praticamente una sorta di privativa, di monopolio al Consorzio. Quindi dovrebbero farla in concerto con i comuni e cercare naturalmente di garantire le fasce occupazionali a questi operai. Perché dietro ogni operaio c'è una situazione familiare, c'è una moglie, ci sono dei figli, ci sono tante realtà. Beh, noi l'abbiamo incontrati ieri per l'ennesima volta. È chiaro che i loro commenti su questa vicenda devono davvero far riflettere chi ha il potere di decidere. Intanto passiamo alla città, Rapine, la polizia chiede rinforzi, il questore dice prenderemo gli autori, i negozi storici chiudono. Nasce a Cunte Quintelab, la Sartoria Meticcia, questo a Torrione, dunque a Salerno, dove due giovani, eccoli qua, li vediamo, due giovani gambiani, ospiti della struttura, sono riusciti a mettere a frutto la loro creatività e la loro competenza. Intanto anche la città ci ricorda la vicenda Corisa 4, operai del Consorzio Esasperati, l'inte stipendi nel futuro. A Capaccio, Voza e Oricchio ritigano per l'Istituto Alberghiero, ad Agropoli, Fondi Unione Europea dei Comuni, Alfieri, finisce nel Mirino. Velocemente andiamo a dare uno sguardo alle pagine interne. Per quanto riguarda Agropoli-Capaccio, la lite tra Voza e Oricchio, il primo sindaco di Capaccio, l'altro di Roccadaspide, che litigano i suoi corsi dell'Istituto Alberghiero. Roccai al nuovo piano di indirizzo per il Parmendie di Roccadaspide, la giunta Pestana si oppone, doppione inutile e dannoso. Beh, accade anche questo. Intanto ad Agropoli, Fondi dell'Unione Europea, la rivolta dei consiglieri, sempre ad Agropoli, Vacanze e Truffe sul web, scatta la denuncia. Centrale Biomasse, appello a Mattarella. Senza paghe nel futuro, occupano il consorzio, i lavoratori a vallo, la dura protesta, posti di lavoro a rischio, assemblea permanente in attesa del vertice in provincia col commissario. Intanto la statua di San Pia do Iastro, Apolita rivela, io minacciato, ieri è stata protagonista questa vicenda, anche della trasmissione Rai, la vita in diretta. Poi a Polla, banda di ladri, assaltata una gioielleria, a Salento, respinto al ricorso, De Marco è il sindaco, dunque resta sindaco. Intanto a Teggiano, a freschi restaurati, con fondi della BCC. Questa bella notizia, Marina di Camerota, Francesca spegne 103 candeline. Gran festa a Marina di Camerota per Francesca Russo, che ha festeggiato il suo centotresimo compleanno con i figli Giuseppe, Gesù, Carolina e suor Licia, ma anche con numerosi nipoti e pronipoti. Ci uniamo naturalmente agli auguri per questa arzilla, nonnina. Auguri a nonna Francesca. Auguri, auguri davvero. Ci dobbiamo, ci avviamo a chiusura. Allora, qual è il suo messaggio in questo momento? Ne abbiamo già rivolti tanti e al sindaco e agli organi che stanno naturalmente facendo luce su questa vicenda giudiziaria e naturalmente anche sui concittadini. Qual è il suo ulteriore messaggio in questo momento? Il messaggio che io, come capogruppo di minoranza, all'angio all'amministrazione Cammarano è quella di tenere in seria considerazione l'attuale situazione del Comune di Rofrano e di prodigarsi in tutto per far sì che il Paese non spopole e vengano portati a termine i progetti che già ci sono e venga messo in campo un'ulteriore programmazione. E che si finisca con questo comportamento di arroganza e di considerare l'opposizione come un'opposizione propositiva e salvaguardare i diritti e le competenze della minoranza che sono dettate dalla legge. Quindi l'arroganza e la prepotenza devono essere messi in deposito e far sì che le cose funzionino bene. e soprattutto non fare l'arrogante e il prepotente con i soldi dei cittadini perché io sarò costretto puntualmente a segnalare agli enti preposti eventuali irregolarità e illegittimità. Grazie. Allora, salutiamo e ringraziamo Giuseppe Viterale capogruppo dell'opposizione al Comune di Rofrano nostro ospite per questa rassegna stampa ci fermiamo, è davvero tutto ma restate con noi tra qualche istante e torna la TG7. Grazie, arrivederci. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pio, decimo, settanta, infante calzature.